a ribaltare l'azione, a guardare in avanti si infuria in panchina Imoiano si Giuseppe si è molto arrabbiato perché voleva un calcio di punizione in favore della direttore di gara si intervento di Montipò che ora però è a te delle cure dello staff medico della Giana allora Giuseppe molto ascoltato anche in panchina il vice di Diano ovvero Emanuele Filippini uno dei gemelli filippini che giocavano in Serie A proprio nel Brescia